Carissimi amici del Bologna che andate a Lecce, purtroppo sprofonderemo nell'abisso perché ce le combinano sempre di tutti i colori, ma di tutti i colori e anche di più. Massa ci ha lasciato, ricordiamo, dopo la partita vinta strameritatamente con l'Atalanta, espellendo ingiustamente Danilo, uno dei migliori difensori del campionato italiano. Quindi andiamo a Lecce senza uno dei migliori difensori del campionato italiano. Bene, grazie a Massa che non doveva espertare. Andiamo a Lecce e chi ci manda la premiata ditta di Soli Gicchi, grazie eh, grazie ancora. La copiata funesta a Abisso Pasqua. Allora, Abisso è un arbitro ultra mediocre che praticamente ci mandano sempre a noi. E Pasqua di Tivoli è ancora peggio e lo mandano alla VAR. Quindi questa copiata qui che ci ha fatto dei grossissimi danni col Parma, Bologna-Parma di cui ho imparato tante volte, dove eh dovevano essere espulsi sia Barillà che Gaiolo, allora eh questa copiata qui ci farà perdere a Lecce. Quindi se fate in tempo non andate a Lecce. Perché partita è una partita che eh sarà difficilissima per il Bologna perché a meno di miracoli si perde. Allora, senza Danilo, espulso ingiustamente da Massa e da Massa e con la copiata Abisso Pasqua eh due meridionali che abitano in Lecce eh non c'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Dobbiamo fare quello eh che vogliamo eh purtroppo si perde. Io lo dico prima mi dispiace tanto perché eh mi sta venendo la gastrite però eh è così. Tanto poi cioè me ne faccio una ragione. Come ho detto prima campionato di calcio italiano vale zero e gli scudetti sono di cartone e quindi bisogna prendere un po' tutto eh col cuore leggero. Chi se ne frega. Forza Bologna comunque. Forza Bologna ole e ciao cibo se mi senti. Ciao. Ciao. Grazie.